Con l'intervento del sottosegretario onorevole De Meo si celebra nella foresta umbra tra Monte Sant'Angelo e Vico del Gargano a 850 metri d'altitudine la festa regionale della montagna e la decima edizione della Sagra della Foresta. Nei pressi dell'albergo rifugio il Vescovo di Foggia celebra la Mesa. Poi si inaugurano le opere montane tra le quali una nuova strada che attraversa la grande foresta pittoresca piena di altissimi faggi, di pigni, di tigli, frassini, cedri protesi verso il cielo come altissime colonne tra un intrico di rami e di foglie. La manifestazione si è conclusa nel pomeriggio con uno spettacolo folkloristico che ha visto la brillante esibizione del gruppo di San Giovanni Rotondo, il celebre paese di Padre Pio.